Buongiorno agli amici di Franco, si è colorata d'azzurro la meravigliosa città di Trento la settimana scorsa con la doppia sfida delle nazionali under 15 Italia-Austria. Il calcio a Trento non sta vivendo un periodo brillante, sicuramente il volley e il basket e gli sport di montagna godono di miglior salute, ma le iniziative pro calcio, soprattutto giovanile, danno lustro e prestigio nel panorama nazionale e internazionale alla città, in primis il torneo di arco. Trofeo Beppe Viola, da poco concluso, andiamo a vedere, con la vittoria dell'Atalanta, ma anche con una striscia polemica per i problemi oggettivi che questo torneo deve superare. Due vittorie per gli azzurrini, anche se il risultato non conta, ma balza subito all'occhio. Non ho visto la prima partita, ho visto il 3-2 ed è stato un'Italia double fast, un primo tempo giocato male e un secondo tempo autoritario, convincente, ma sempre in svantaggio, ha saputo recuperare e vincere con sofferenza ma tenacia. Una bella partita, ricca di gol e di buone prospettive future. Buon calcio social a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie. 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 Grazie.